Professoressa Cotti, quali sono le sue esperienze cliniche sul prodotto Bioshealer? Le mie esperienze cliniche sul prodotto Bioshealer ormai risalgono a due anni. Ho iniziato a lavorare con l'Università di Bologna, ho provato i diversi prototipi che hanno fatto lungo la strada e li abbiamo applicati per tutte quelle che sono le normali indicazioni per l'uso dei cementi di tipo Portland. Abbiamo fatto all'Università di Cagliari diversi casi sui pazienti, sia nei trattamenti degli apici aperti, le perforazioni radicolari e chirurgia endodontica. Ma non ci siamo adattati ai nuovi prodotti che venivano fatti, messi in fase sperimentale dall'Università di Bologna. Premetto che io ho un'esperienza che è data 15 anni sull'uso dei cementi di tipo Portland per la chiusura delle comunicazioni endoparodontali, quindi avevo già una conoscenza abbastanza approfondita del tipo di prodotto di cui il biosilier rappresenta un'evoluzione. E quali le differenze che ha trovato dal punto di vista pratico sul prodotto rispetto a quelli già presenti sul mercato? Il prodotto, tanto per incominciare, quello che non c'era sul mercato era la distinzione dello stesso prodotto con diverse caratteristiche però per i diversi campi applicativi dell'endodonzia. Questa è la prima volta che abbiamo un prodotto con caratteristiche di tipo Portland che abbia delle differenziazioni intrinseche in modo tale che ci siano delle variazioni a seconda dell'uso che se ne vuole fare sia per quanto riguarda la maneggevolezza del prodotto che per quanto riguarda la radiopacità. Sicuramente abbiamo visto che appunto si può avere un range di prodotti da applicare alle diverse situazioni e sono estremamente maneggevoli da un punto di vista anche della preparazione del prodotto tanto per incominciare continuando poi con l'introduzione del prodotto sul dente. C'è un prodotto specifico che si chiama Apex che è indicato per le apicificazioni che è ottimo anche nel rapporto, nella miscelazione e nel rapporto con l'umidità che può esserci all'interno del canale che è uno dei nostri problemi normali. Tra l'altro appunto ha un tempo di indurimento più rapido che è una cosa che noi clinici ci aiuta molto. Per il resto da un punto di vista tecnico, da un punto di vista clinico a distanza per il momento abbiamo ovviamente una casistica limitata considerato che è fuori da poco tempo però anche ragionando sui prototipi che abbiamo usato in questi anni si può dire che il risultato finale in termini di richiami periodici sei mesi, un anno, sta dando ottimi risultati. Quindi se devo stringere una differenza è nella lavorabilità del prodotto e nel suo rapporto con i diversi usi. Poi la ricerca ci ha indicato ovviamente altre differenze che però sono sostanzialmente al momento sperimentali ma che si presume abbiano poi il loro ruolo in quelle che sono le guarigioni cliniche. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.